Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Nel vivace scenario del Grande Fratello, un nuovo capitolo si è aperto con l'ingresso di Perla Vachiero, che ha scosso le dinamiche preesistenti, specialmente tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. La loro storia, seguita con fervore dai telespettatori, ha subito una svolta, alimentando ipotesi su un possibile ritorno di fiamma. Recentemente, Greta Rossetti è stata al centro di un'ondata di critiche online, portandola a chiedere pubblicamente di essere lasciata in pace, dichiarando conclusa la sua storia con Mirko. Nonostante ciò, i fan della coppia Perla e Mirko, soprannominati i Perletti, continuano a non darle tregua. In questo contesto, Jessica Notaro, nota attivista e amica di Greta, è intervenuta in sua difesa. Con un post su Instagram, la Notaro ha criticato aspramente coloro che attaccano Greta sui social, sottolineando l'ipocrisia di celebrare la giornata contro la violenza sulle donne con gesti superficiali, mentre si denigra un'altra donna online. Greta dal canto suo, ha espresso apprezzamento per il sostegno della Notaro, lodandola come una grande donna. Nel frattempo, la situazione è stata ulteriormente complicata da commenti online provocatori, e da un'intervista alla sorella di Perla, che ha accusato Greta di voler apparire come vittima. La trama si infittisce ulteriormente con un recente confronto nella casa tra Perla e Mirko. Questa discussione ha sollevato domande su un possibile rinnovato interesse sentimentale tra i due, nonostante le affermazioni di Greta di voler chiudere definitivamente con Mirko. Il pubblico rimane in attesa di vedere come si evolveranno questi intricati rapporti. che ne pensate? Da che parte stati in questa intricata vicenda? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie! Grazie!